Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo. A voi, grazia e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede fa grandi progressi e l'amore di ciascuno di voi verso gli altri va crescendo. Così noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e la vostra fede in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che sopportate. È questo un segno del giusto giudizio di Dio, perché siate fatti degni del regno di Dio per il quale appunto soffrite. Il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo «Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e quando lo è divenuto lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guida cieche, che dite «Se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio, che rende sacro l'oro?» E dite ancora «Se uno giura per l'altare non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta?» Ebbene, chi giura per l'altare giura per l'altare per quanto vi sta sopra e chi giura per il Tempio giura per il Tempio e per colui che lo abita e chi giura per il Cielo giura per il Trono di Dio e per colui che vi è assiso. Questa gente che era ideologica, più da dommatica, era ideologica, avevano ridotto la legge, il dogma, a un'ideologia e si deve fare questo e questo e questo, una religione di prescrizioni e con questo toglievano la libertà dello spirito. Questa gente, questi dottori, manipolavano le coscienze dei fedeli e li facevano diventare o rigidi o se ne andavano. Per questo io mi ripeto e tante volte dico che la rigidità non è del buono spirito. Perché mette in questione la gratuità della redenzione, la gratuità della risurrezione di Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Durante la storia della Chiesa questo si è ripetuto, no? Pensiamo ai pelagiani, a questi rigidi, famosi, no? Dove è rigidità non c'è lo spirito di Dio. Perché lo spirito di Dio è libertà. E questa gente volevano fare dei passi togliendo la libertà dello spirito di Dio e la gratuità della redenzione. Per essere giustificati tu devi fare questo, 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 questo. La giustificazione è gratuita. La morte e la risurrezione di Cristo è gratuita. Non si paga, non si compra. È un dono. Io devo guardare il tuo spirito di Dio. Grazie a tutti